Senti, Elena, sono 70 anni che te lo dico, io ti amo e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne Ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ho perso e la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo e se non ti basta vuoterò il mare e tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo e se non ti basta solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo e se non ti basta anche le nuvole catturerò e te le porterò domate e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta perché il tempo si fermi fermerò i pianeti in volo e se non ti basta oh e oh e che devo fare? Questa testa di Stefano Grandi. Stefano Grandi. Grazie. Però la faccia di ieri era bellissima, bellissima. Mi ha fatto questa faticata la faccia di ieri era bellissima. E' così. La controscena è più importante. E' un prepotente. Che dici Elena? E' un prepotente. E' un prepotente. Ma c'è una cosa più dolce che puoi dedicare a tua moglie dopo 70 anni insieme? Certo 70 anni. 70 anni da quando ci siamo conosciuti. 70 anni da quando ci siamo conosciuti nel 49. Facciamo qualche domanda. No io vorrei fare una domanda che non vi ha mai fatto nessuno. Difficile. Qual è il segreto per stare insieme 70 anni? Ma come si fa? Siete degli alieni? Siete veri? Siete reali? E' tutto vero? Non lo so. Guarda per incanto prima ti diamo anche la possibilità di metterti comodo. Perché una domanda così merita degli scranni reali. Grazie. E dato che io solitamente... Gli scranni reali? Anch'io? Gli scranni reali. E' meglio che mi accomodi. Accomodatevi. Io sto qua come un servitore. Un paggetto. Un paggetto. A me fa piacere. Lascia fare. Veramente una domanda in quel modo servirebbe quello che dici tu. Però dire una risposta non te la sappiamo dire. Io sì. Eh sì. Ma tu sai la risposta, la ricetta già. Io sì. Elena. Illumina. E' 70 anni che ci penso. Scusami. Perché? Perché? 70 anni che me lo domando. Dunque no. Uno. Primo. Almeno tre cose secondo me hanno funzionato. Una bella attrazione. A me questo ragazzo piaceva. Allora. Mi piaceva molto. E questo aiuta insomma incontrarsi anche fisicamente. Aiuta. Beh sì. A due. Avevamo. Anche perché era reciproco il viscozzo allora andava bene chiaro. Non osavo dire. Non avremmo appurato questa cosa. Mi sembra chiaro. Però l'ha ribadito Carlo. Però l'ha ribadito Carlo. Quanto fosse reciproco. Grazie. Poi due che avevamo lo stesso lavoro, gli stessi ideali, gli stessi traguardi. E questo anche ci ha chiaramente aiutato. Non è che io aspettavo Carlo e lui ritornava e magari stanco mi parlava dei suoi problemi. Li avevamo in comune. Abbiamo vissuto tante cose fin dal primo momento difficili, non meno difficili, allegri. Sempre comunque con questa unione che già c'era. E poi terza cosa che è arrivata subito la prima figlia, praticamente dopo due anni. E la famiglia, mi perdonerete se qualcuno non la pensa come me, scusatemi. Ma per me è la cosa più importante che esista al mondo. Veramente. Siamo a parecchi. Veramente. Io scusate, devo andare. Che bella cosa. E' la famiglia. Ecco Olivia. Guarda la seconda. La piccola è Olivia. 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 Allora io, scusate, ma c'è una cosa da fare poi che la capire dopo. C'ho una cosina. Voi state, vi lascio in buonissima mano. E qui funziona così. Michela Ginestra, prende, parte, tornerà. E quindi questi sono i tre elementi per Elena. Posso aggiungerne un altro io su di voi? Guardandovi in alcune occasioni, io ho notato lo sguardo tra di voi. Cioè quando Elena Cotta riceve al Festival del Cina di Venezia la Coppa Volpi ed è sul palco a prendere questo enorme riconoscimento, Carlo è in platea e la guarda in un modo preciso. E' uno sguardo su di lei complice, attento. Non so, questo continuare a guardarsi così è una rarità. E poi lei me l'ha dedicata. Eh sì? Io non lo sapevo, eh. Non sapevo assolutamente nulla. E no, senz'altro è un fatto di complicità. Questa è vero, l'ho dimenticata. La complicità c'è stata in tante cose. Anche nel giudicare il mondo attorno a noi con una certa ironia. L'ho usata spesso io. Mi viene abbastanza facile. E allora si fa sopronalizzata assieme. E la risata aiuta. Aiuta molto a risolvere molti problemi. Se uno si arrabbia, io mi arrabbio dopo dieci minuti e è finita. Non c'è più. E' tutto dimenticato. Non esiste. L'altro giorno mi sono arrabbiato con mia figlia che adoro, la più piccola che era. Dopo neanche un'ora ho mandato un messaggino scusandoli. Anche questo? Saper chiedere scusa. Saper chiedere scusa. Che conquista è? E' difficile. Perché tu sei ancora arrabbiato. Se hai di avere ragione, ma non fai niente. Perché la colpa non è mai da una parte sola. Mai. Non esiste il colpevole. C'è sempre la colpa un po' da tutte e due le parti. Poi un'altra cosa, la fiducia, per esempio, nel lavoro. Da 75 praticamente abbiamo fatto la nostra compagnia e da allora abbiamo fatto un teatro. Teatro Manzoni da un cinema vecchio. L'abbiamo fatto diventare uno dei teatri di Roma più frequentati. E poi abbiamo girato il mondo con lavori che abbiamo fatto. Io ho inaugurato un lavoro lì al Teatro Manzoni. Era all'Arlecchino servito dei due padroni. E abbiamo girato il mondo. Siamo andati da San Pietroburgo, MISC. Siamo andati sia in Siberia, a Novo Subischi. Siamo andati a Pechino, a Shanghai. Siamo andati girando mezzo mondo con questo lavoro. Sempre assieme. E qualche volta abbiamo portato anche lì. Eccoli qua. Qui siamo a Pechino davanti alla città proibita. Ecco. Quando facevamo questo lavoro. Sempre insieme. Sempre insieme. Sempre dentro un progetto. Eh sì. E sempre con la massima fiducia. Perché per esempio quel personaggio lì che vedete, che era uno dei due padroni dell'Arlecchino, io non ero molto convinto. Io facevo la regia lì. Non entravo. Non ero molto convinto che fosse giusta Elena per fare quel personaggio. Perché era una torinese. Una torinese doveva fare un po' molto sesso. Insomma era strano come personaggio. Ma pure l'ha fatto. Io dico no. La fiducia c'è. Era bravissima. Che ha fatto come gli pari. Ha fatto un'altra cosa naturalmente. Beh. Così. È così. Senti scusami, tu hai scoperto tanti talenti, no? Hai diretto tanti attori. Tanti anche sono approcciati per la prima volta su un palcoscenico. L'hanno fatto grazie ai tuoi consigli. Sì. Allora noi stasera vogliamo, vogliamo farti, farvi una sorpresa. Perché qui con noi è una tua scoperta teatrale. E io, ma devo dire il nome oppure? No, 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 no. Sorpresa. Sorpresa. Arriva, arriva un talento scoperto da Carlo. Ma che cosa? Su, 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 su una musica. La facciamo partire sulla musica. Ma sì, facciamo partire così. Facciamo la musica così. Una tua scoperta teatrale. Eccola. Eccola.